E' destino che questo scontro diretto nella stagione corrente abbia sempre un andamento contorto, per qualcuno addirittura distorto, tanto da lasciare molti dubbi e poche certezze persino nelle persone più lucide, addetti ai lavori o non che siano. E così come nel match di andata gli episodi controversi spesso superano persino il metaverso, ma una cosa per volta perché prima di arrivare ai dubbi amletici vi dovrete sciroppare molto nulla, un po' di qualcosa e un paio di tanto, proprio in chiusura di match. E' uno scontro diretto fra due squadre in crescita e lo si vince da un paio di particolari. La qualità della manovra è buona e quindi la tattica asfissiante arriva a bloccare l'anderivieni di un incontro che propone i suoi primi contenuti solo alla mezz'ora, quando un taglio profondo fa sanguinare la difesa capistrellana che è presa il fianco a Di Stefano, pronto per esultare se non fosse per un De Santis sontuoso nel suo tempismo decisivo per la sopravvivenza della propria squadra. Ponte Comano che sale di tono e al 38esimo ci prova con Antichi che contro una selva di maglie capistrellane si sbatte anche troppo ma non porta a casa nulla di apprezzabile. 44esimo si palesa il capistrello con salvati al tiro cross che Ricci si va a prendere qualche metro avanti con un'uscita felina che dipana la matassa. 45esimo occasionissima ospite con Di Francesco che cannoneggia dalla distanza ma trova la traversa a frenarne le velleità. Il primo tempo questo è e la ripresa sembra promettere meglio per i padroni di casa che al secondo ci provano con Fischetti che in diagonale non trova lo specchio della porta. Il Ponte Comano però rimane sul pezzo e già al quarto si palesa di nuovo con Antichi che pennella per Bala che svetta sul secondo palo ma non trova il bersaglio grosso. Sesto tocca a Porrini mostrare le sue doti balistiche ma a Brassetti manca solamente il mantello da supereroe perché il volo farebbe impallidire Clark Kent. 22esimo Fischetti e chi se non lui prova a sparigliare e questa volta ci va veramente vicino ma Ricci si sporca la tenuta accompagnando la sfera in angolo. 25esimo il neo entrato Gargini si presenta con un'inzuccata di poco alta sopra la trasversale. E arriviamo così alla zona calda del match quella dei dubbi amletici. 43esimo Fischetti e pennella direttamente da tiro di punizione ma la bandierina è alzata. Perché? 46esimo tiro d'angolo e palla sulla figura di Di Eleuterio. Cosa è successo? Calcio di rigore per un fallo di mano, una trattenuta, un moscerino? Solo la Moviola potrà esserci d'aiuto. Intanto però Antichi, dagli 11 metri, si è già portata a casa ai tre punti.